E' sull'orecchio. L'orecchio? Ah no, l'orecchio sinistro. E'... E' gelbino. Quando mi trasferisco? Ho avuto informazioni su di lei da una fonte sicura. Sapevi dov'ero? Guardia! Posso trovarti quando voglio. Aspettate, signori, passate sull'altro vagone. Un insetto si è inserito nell'impianto elettrico. Avete sentito? Un insetto ci è inserito nell'impianto elettrico. L'unico modo di sentirsi in pace è fare la guerra. L'unica lealtà che conoscono è quella tra di loro. Mi amo così tanto gli animali. Puoi guardarli negli occhi e sapere esattamente che c'è nei loro cuori. Bello rivederti in scena. Non c'è posto migliore. E di nuovo? Sono un fumetto. Sono su dei cereali. Ho inciso un disco di Natale. E' ispirato un ghiacciolo bruttino. Ma qui non si parla di me. Non più. Questo è il vostro primo vero test. Ricordate i miei insegnamenti. Hanno gli addoni! Che cos'è la Coca-Cola? Un po' a pelennaro. Stabilisce un ordine che noi siamo in grado di controllare. Dirò a tutti quello che lei ha fatto. Sarebbe un errore imperdonabile. Boom!